Terza conferenza sul progetto di relamping a Fano. Dalla presentazione dello scorso anno, questa volta si passa ai fatti con alcuni interventi già eseguiti. Sono stati illustrati dall'amministrazione comunale fanese e da ASET SPA i progetti terminati e quelli futuri sulla sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a LED, più luminose, meno inquinanti e con costi contenuti. Con questa operazione si andrà a risparmiare sulla bolletta finale circa 400.000 euro. Prevede la sostituzione dei 9.000 corpi illuminanti attualmente a scarica con altrettanta tecnologia LED. Grazie a questo progetto avremmo la possibilità di risparmiare per il costo dell'energia elettrica un valore di circa il 43% che equivale a circa 2,1 gigawattora di energia elettrica, equivalente a loro volta a circa 403 tonnellate di petrolio equivalente. È un progetto che verrà realizzato nel corso dell'anno 2023 che è già in corso, infatti sono già stati sostituiti circa 700 corpi illuminanti e si concluderà indicativamente nel dicembre del 2024. L'investimento è di circa 2,5 milioni di euro. Addio dunque alla luce arancione, infatti si passerà ad una colorazione chiara e naturale in alcune arterie cittadine. Infatti i primi interventi sono stati eseguiti in diverse zone della città, tra queste, per citarne soltanto alcune, il Lido, il Pincio e lungo gli interquartieri. Un impianto all'avanguardia che garantirà anche maggiore sicurezza grazie alla possibilità di intervenire in singoli luoghi. La cosa importante è che aumenta anche la luminosità con nuovi modi di controllarla, di renderla più, diciamo così, utile alle varie esigenze che il comune può avere o che determinate zone hanno. La cosa importante appunto è perseverare nella ricerca sia di fonti alternative che di modalità per risparmiare l'energia elettrica perché penso che sia un fine a cui tutti dobbiamo tendere sempre più e in modo maggiore chi ha delle responsabilità come le nostre. Un intervento dunque che porterà benefici al comune di Fano, come ha ricordato il sindaco Seri. Con un'azione abbiamo ottenuto tre risultati. Un primo risultato farlo attraverso la nostra società che è capace, competente, professionale e funziona, lo voglio sottolineare. Andiamo a portare un risparmio altissimo sia all'amministrazione e in parte che rimane alla nostra società e usiamo tutte le ultime tecnologie e quindi diamo un servizio ancora migliore per quello che riguarda l'illuminazione e tutto quello che è legato all'illuminazione.